Onorevole Gallo, prego. Onorevole Gallo, parli stavolta. Parli stavolta o taccia per sempre. Prego. Presidente, non puoi andare con questa velocità e senza dare il tempo di intervenire sugli emendamenti. Allora, ci consideri iscritti a tutti gli emendamenti. Interverremo ogni emendamento di un minuto. Guardi qui e noi interveniamo, ok? Dichiaro aperta la votazione. Guardate, non aiuta questo atteggiamento.